Teatro e servizi verso il fallimento. Lo si evince dalla relazione di 58 pagine redatta dal commissario giudiziale Cristiano Maria Corvi che boccia di fatto la possibilità di concordato. Nello specifico si legge alla luce delle verifiche svolte alla data della presente relazione non essendo stato rinnovato il contratto di servizio alle condizioni stabilite dal Consiglio Comunale nonostante i solleciti che la società di abitrice ha rivolto al socio non sussistono le condizioni di ammissibilità del concordato. Proprio per evitare tutto ciò il liquidatore Luca Di Orio aveva chiesto con insistenza il nuovo contratto alla società ma il disesto finanziario dichiarato dall'ente giovedì scorso ha bloccato di fatto anche questa operazione. Considerato che il Comune di Chiede dal 27 marzo giorno che sarà approvata la delibera per depositare il concordato non ha prodotto i contratti di continuità aziendale e cui l'unica cosa che il commissario nominato dal giudice ha potuto scrivere che non c'è la possibilità di salvare la data dei servizi per un'altra volta l'incapacità di questa amministrazione a firmare un contratto per la proseguità del servizio. Intanto ieri l'opposizione ha disertato la conferenza dei capigruppo nella quale bisognava decidere la data del prossimo Consiglio Comunale e parla di vera e propria debacle amministrativa. Dopo il dissesto dovuto da appunto dalla loro incapacità perché non sono stati capaci di riunire dei numeri per dare credibilità alla Corte dei Condi sul salvataggio della città questa dà un'altra dimostrazione di secondo me di ritirare i remi in barca e di lasciare questa città in mano a chi ha voglia di veramente di amministrare e di salvare Chieti. Nel prossimo Consiglio Comunale del 29 giugno prevista una nuova delibera per cercare di evitare il fallimento. Il commissario semplicemente dice che ad oggi la delibera che è andata in Consiglio Comunale il 27 marzo non ha ancora trovato attuazione, non entra nel merito della situazione attuale ma semplicemente che non è andato in esecuzione quella delibera. Tant'è che ieri noi abbiamo predisposto nella capigruppo un Consiglio Comunale per giovedì dove si prevede una delibera di indirizzo alla struttura dell'ente per andare avanti nella risoluzione dei problemi. E sulla incapacità di governare Febo rispedisce le accuse al mittente. Sicuramente ma non è un dato tecnico perché confondono i dati tecnici con i dati politici.